Oh, jeez, here we go. Mr. Fedeghiko and Aldo and Fabrizio in the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. E bentornati a spin-off. Questa è la 2x15, anche nota come l'ultima puntata dell'anno. Saluti da Padova quest'oggi. Sono tornato in macchina e sono abbastanza felice perché non ci sono meno 11 fuori, ma più 7. Qui con me, come al solito, come tutto il resto dell'anno, tranne una puntata. Aldo. Salve. Dove sei quest'oggi? Sempre a casa mia. Brescia, provincia. E da Edimburgo. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi. Come stai? Bene, bene. È stato un trimestre abbastanza pesante per te. Prima la sassata sul vetro di casa. Poi domani, che secondo il biglietto del biscotto della fortuna cinese che ho mangiato l'altra sera, qualcosa succederà questo sabato. Qualcosa di positivo, dicono il biglietto, ma come sappiamo dalle esperienze passate bisogna sempre cercare di interpretare quello che i biglietti della fortuna vogliono dirti. Quindi, probabile che io non arrivi all'anno nuovo. Nel caso, queste saranno puntate ad memoriam. Ringrazio tutti. Nel caso non c'è problema, ti sostituiremo con qualcun altro. No problem. Va bene, perfetto. Ci sto. Visto che l'ultima puntata dell'anno, abbiamo deciso di fare un recap, guardarci indietro da tutto quello che è accaduto da gennaio ad oggi. Invece che fare gli highlights e lowlights della settimana, abbiamo deciso di fare highlights e lowlights dell'anno. Per l'occasione abbiamo deciso di fare la top 3 delle nuove serie di quest'anno e le peggiori 3 nuove serie del 2022. Più un altro pari di categorie come Best Recupero e Miglior Film Visto nel 2022. E direi che possiamo cominciare subito visto che ce ne sono un bel po'. E oggi mi sento gentile quindi partiamo da Brescia. A me la linea. Quali sono le tue tre nuove migliori serie dell'anno? Per me sono state From the Apix, Peacemaker di HBO e Under the Banner of Heaven di Hulu con il comodissimo nome italiano In nome del Cielo. In onda su Rai 3 la domenica pomodiglia. Io ho queste tre come Best Series of 2000 2022. Sono in ordine dalla più bella alla meno bella. No, in realtà no. Ecco, From posso tranquillamente confermarti che sia il primo posto come serie migliore dell'anno. Peacemaker e Under the Banner of Heaven invece è 50-50. Peacemaker perché è una serie un po' più leggera e l'ho guardata con piacere senza scrivere neanche una recensione. Ciao Federico. E Under the Banner of Heaven invece l'ho messa lì perché Garfield è veramente un grandissimo attore quindi si meriterebbe tutti i premi della vita per questo ruolo. Quindi hai guardato The Amazing Spider-Man 1 e 2? No, The Amazing Spider-Man no. No, The Amazing... No, no. Adesso. Bravo lui ma a posto così, grazie. Potreste guardarteli così. Ho visto gli altri Spider-Man con Tom Holland semplicemente perché in uno compariva anche Jack Gyllenhaal e quindi volevo recuperarli non per altri motivi. Cosa mi dite della mia classifica? Vabbè, io sono d'accordo senza dubbio su From e Peacemaker. Under the Banner of Heaven l'ho trovato un prodotto buono ma non meritevole di una, addirittura una top 3. Non ho probabilmente tutto questo amore per Andrew Garfield quantomeno non quanto ne ha Aldo però su Peacemaker e From d'accordissimo. From una delle più belle serie misteri degli ultimi anni. Il nuovo Lost L'unico forse che può arrogarsi un pochino il diritto di chiamarsi il nuovo Lost perché effettivamente dopo Lost questo è il primo telefilm che dà dei segnali positivi dal punto di vista del drama misteri in stile Lost e Peacemaker invece tra le serie tv supereroistiche è sicuramente una delle migliori per il suo stile per il modo con cui è fatto quindi una serie tv che ricalca in certo qual modo lo stile di Suicide Squad quel filone lì quello del drama splatter però sempre condito con quel po' di comedy che in questo caso viene portata avanti appunto da John Cena che insieme a The Rock sono gli idoli del mondo sono quelli che nessuno può dire a me sta sul cazzo quello lì ti senti quasi in colpa se lo dici però ecco l'unico su cui contesterei non perché è brutta ma perché l'avrei messa magari in un eventuale top 10 magari ma top 3 non lo so c'è stato di meglio secondo me quest'anno tra l'altro possiamo dire che abbiamo già registrato una puntata dedicata a From tipo qualche mese fa che è ancora in fase di montaggio Aldo eh? sì e quando a tempo di spedizione se vuoi darmi una mano Fede è nessun problema lo farò volentieri ah ecco ok va bene tengo nota no prima finisci di montare l'altra puntata quella che deve uscire nella prossima ecco poi puoi pensare al tuo cazzo di From sta parlando con te Aldo eh? no no sto parlando con te Fede comunque su From concordo ce l'ho anche io nella mia top 3 Peacemaker mi è piaciuto secondo me è stato anche il trampolino di lancio per James Gunn che adesso è diventato co-CEO dei DC Studios e probabilmente emulerà costantemente questa nuova formula di commedia musica e personaggi famosi che praticamente insieme a John Cena saranno la base del nuovo DC Universe per Under the Banner of Heaven io concordo con Fabrizio a me è piaciuta soprattutto perché i mormoni sono molto interessanti come comunità religiosa sì non è diciamo che nella mia top 10 ma non nella top 3 però capisco che Aldo sia completamente spinto dall'amore verso attori no in realtà serie nuove non ne ho viste così tante quindi non ho lasciato lì io dicevo proprio a livello personale prima che non è stata una di quelle che mi ha emozionato di più però lui sì assolutamente si merita riconoscimenti quello senza dubbio mi stupisco che non ci sia The Peripheral in questa top 3 di Aldo dopo tutta questa pubblicità che mi arriva quale pubblicità è il nuovo telefilm di Jonathan Nolan Elisa Joy ci sono registrazioni e registrazioni andate già in onda di io che assolutamente non dico questo tipo di cose e qui mettiamo l'audio originale The Peripheral e con assento grave un capolavoro annunciato dovete assolutamente guardarlo è il nuovo Lost e come hai potuto ascoltare in questo audio originale non l'ho mai detto in vita mia una roba del genere ok Fabri tu cos'hai invece come top 3 allora la mia top 3 ovviamente doveva includere Boris 4 la quarta stagione il reboot che effettivamente come potrete anche andare a leggere dalle recensioni ho apprezzato nella sua imperfezione nel senso che non è certo ai livelli di Boris l'originale a livello di comicità a livello di anche di novità perché adesso comunque in qualche modo anche se in piccola parte si è andato a cercare la citazione il meme nel meme quelle cose lì ma mai in maniera esagerata infatti si può vedere che molte porzioni di trama molti spunti secondari vengono iniziati e manco finiti c'è quasi una volontà degli autori di omaggiare l'amico scomparso ma sempre divertendosi senza tradire lo stile originale di Boris e questo mi è piaciuto molto quindi per forza di cosa andava nella mia top 3 poi c'è Severance serie di Apple Plus su questa realtà distopica dove grazie a una particolare tecnologia è possibile separare la vita privata da quella lavorativa creando non pochi problemi visto che non ci si ricorda cos'è successo fisicamente nelle ore in cui sei al lavoro o a casa non so se voi l'avevate vista Severance non ricordo perché Pedro non lo guarda perché c'è Adam Scott e non gli piace Adam Scott quindi c'è questi complessi di inferiorità nei confronti di alcuni attori quindi non guarda complessi di odio è diverso ma sempre basati su nessun motivo tra l'altro perché ogni volta mi tiri su insulti su gente tipo appunto vabbè i vari Cumberbatch Zendaya questi qua ormai li sanno tutti ma anche tipo per guardare alla puntata precedente tutto il cast di Only Murders in the Building senza una motivazione Serena Gomez Martin Short tutti quanti mi sa sul cazzo non lo guarda e lì non vedo il motivo no no ma lui odia quelli che hanno i capelli più belli dei suoi quindi tipo Adam Scott che ha tutto il ciuffettone tirato bene non gli sta simpatico per quello Zendaya che è tutta cotonata è per quello beh Adam Scott ha la faccia fatta per essere presa a schiaffi va bene Zendaya i capelli ricci a me i capelli ricci non piacciono quindi non sono geloso e comunque semplicemente ho attori che mi stanno non simpaticissimi e quindi non li voglio vedere perché devo guardare un qualcosa con una persona che mi sta sul cazzo questo io lo capisco vabbè mica c'è solo lui c'è John Turturro poi c'è anche Christopher Walken ce ne sono di attori vabbè comunque non importa io questo lo consiglio perché è una storia finalmente nuova particolare sempre nell'ordine del futuro distoppico mettiamola così finalmente un qualcosa di nuovo di rinfrescante e la terza invece che è un recupero che ho effettuato di recente sono soltanto sei puntate è SAS Rogue Heroes che è appunto la storia della SAS di questa squadra speciale che si è andata a formare nel corso della seconda guerra mondiale ed è un prodotto BBC e anche se non c'entra ovviamente con Peaky Blinders visto che arriva dalla mano di Steve Acknight ne rievoca un pochino lo stile nel senso che abbiamo la musica anacronistica abbiamo una tamarria di fondo che è sempre presente in tutto il telefilm e sono poche puntate sono sei puntate esattamente come erano le stagioni di Peaky Blinders che ti volano via in un lampo quindi questa qui anche la consiglio assolutamente concordo sull'inserimento di Boris non l'avevo conteggiato io però valida serie quest'anno la aspettavo non tanto come aspettavo delle altre serie però mi è stato un piacere essere smentiti nel senso che mi aspettavo una serie di tutt'altro livello votata più a una comicità e a un'ironia più spinta per fare i meme o presa dai meme eccetera come è capitato che ci fossero alcune battute e invece tutto sommato la grande maggioranza era molto più ironia vecchio stile ed è una cosa che ho apprezzato invece tu Federico visto che a te non te lo chiederebbe mai nessuno mi fingo interessato le tue serie cos'è che hai messo nella tua classifica però brevemente perché dobbiamo andare avanti grazie io non capisco tutto questo odio nei miei confronti soprattutto nel periodo natalizio dovremmo esserti quanti più buoni anzi anch'io ho From nella mia top 3 concordo lo vedo proprio come il nuovo Lost in Italia non lo conosce nessuno però diciamo che hanno scelto alcun nome di merda perché se tu cerchi From TV Series ti riesce tutto il mondo tranne quella cosa qua potevano scegliere un altro nome magari tra l'altro in Italia è nato in onda su Paramount Plus nel caso qualcuno volesse recuperarlo noi lo consigliamo caldamente The Bear e The Sandman The Bear è quello con Jeremy White sì che è quello ambientato a Chicago dove lui è praticamente uno chef stellato che ritorna dopo la morte di suo fratello a rilevare l'attività del ristorante di Autentic Italian Beef che io sono andato tra l'altro a provare quando sono andato a Chicago in ottobre e semplicemente è roast beef cioè un panino con roast beef però in America sono tutti quanti i casati come Autentic Italian Beef va bene sì è buonissimo consigliatissimo sedate a Chicago da provare la serie tv è bellissima e ha una puntata capolavoro che è la settima review che è praticamente tutto un piano sequenza di 20 minuti che per me è l'episodio più bello di quest'anno cioè veramente dovrebbe vincere tutti i premi veramente un capolavoro se non avete recuperato recuperone da fare in queste vacanze natalizie merita c'è già una seconda stagione in produzione la potete trovare su Disney Plus mentre The Sandman penso che non devo proprio spiegare di cosa parla è tratto dei fumetti di Neil Gaiman ci ha messo un sacco per essere rinnovato per una seconda stagione e secondo me è fatto veramente bene c'erano veramente tante possibilità che fallisse miseramente o che avesse anche non so attori che fossero in parte e invece Neil Gaiman Alan Heimberg e David Goyer hanno fatto un ottimo lavoro non ho visto mezza critica negativa nell'internet su The Sandman e voi non l'avete visto ma ve lo consiglio no no io l'ho recuperato di recente ti inserisco nel gruppo allora perfetto faccio subito no 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 non avevo letto fumetti cose eccetera e devo dire che è una serie particolare perché poi a un certo punto diventa quasi un procedurale ogni puntata o coppie di puntate ci si dedica a una particolare missione nonostante possa sembrare magari una cosa negativa invece lo rende più fresco visto che comunque questa storia si svolge sempre in reami eterei esoterici un po' questo questo essere sempre a metà tra il sonno e la veglia ecco questo sistema delle quest dell'anima da salvare non so come dirti sembra quasi che arrivi lui deve salvare la situazione salvare quella determinata persona e poi quando si risolve pazienza si passa oltre perché comunque qua si parla di dei e non c'è spazio per concentrarsi troppo sulle singole disavventure e poi vabbè anche il cast un po' tutto quanto volge a favore di una valutazione positiva quindi The Sandman consigliatissimo e tra l'altro le storie le quest che dici tu come tipo trama verticale sono quelle del fumetto si si immaginavo che si rifacesse sulla falsa riga del fumetto ma infatti è stato un adattamento che potrebbe aver reso felici sia gli amanti del fumetto sia quelli che invece volevano solo vedere una serie di questo genere si no c'è una mitologia dietro della madonna quindi si le rende più digeribili più masticabili anche per le persone che non hanno mai letto il fumetto e con tutta la mitologia che c'è dietro diciamo che non è una cosa facilissima poi c'è la sensazione quando lo guardi che questi personaggi a cui ti leghi poi in realtà scompaiono non tornano più ma nel fumetto in realtà poi ritorna non accerta quindi è semplicemente un verso molto complicato che si va a espandere Aldo consigliato caldamente no no lo so e me l'ho già segnato ancora anni e anni fa i fumetti in realtà però non ho mai avuto il tempo di leggerli infatti prima di guardare la serie tv volevo prima leggere i fumetti però so che dovrei avere tipo giornate da 40 ore a settimana per poterlo fare come tutti quindi lo farai no no lo so passando ai bonus invece visto che il nostro capo redattore c'è la possibilità di inserire ben due bonus per i top e per i worst series 2022 dico subito i miei due bonus che sono 1899 e westward scontato sono scontato sì perché a me piacciono sempre le stesse cose e sono un abitudinario cosa devo farci 1899 nuovo prodotto di baran bohodar e gli antifrise non l'ho messo nella top 3 per un semplice motivo che voglio vedere dove va a parare per poter essere tranquillo con me stesso e non aver consigliato una serie che effettivamente dopo si perde nel corso degli anni cosa che potrebbe valere anche per from potrebbe essere gestito malissimo nelle prossime stagioni assolutamente sì però c'è più coraggio forse in from perché non ti spiegano assolutamente niente di niente nel finale invece in 1899 cominciano a darti delle risposte nel senso che hanno già un'idea di base è una sceneggiatura basata su tre stagioni come per dark e quindi probabilmente è già stata scritta tutta quindi c'è già un piano alla base su cui poi loro continuano a raccontare la propria storia mi piace pensare che ce l'abbia anche john griffin che è il creatore di from guarda se funziona come lost non ha assolutamente idea di dove andare a parare dopo avrà il culo di ritrovare in qualche modo la retta via oppure no tra l'altro sappiamo mica se in italiano è stata tradotta come da vabbè comunque a parte queste battute scontate la seconda serie tv che non è una serie nuova ma è una serie morta sono stata la persona più triste dell'italia probabilmente dopo aver letto quella notizia della cancellazione perché veramente non sappiamo quello che ci stiamo perdendo però lo sa jonathan nolan che invece ha rinunciato alla proposta di fare una stagione ridotta a budget ridotto per chiudere il tutto e gli ho detto c'è che c'è o mi dai i soldi che voglio o sto cazzo allora da un certo punto di vista capisco la logica del non voglio farlo perché altrimenti con poco budget viene male eccetera però cristo e daccelo sto finale comunque fai un film che ne so trova un'opzione che ne so trova una via di mezzo una mini serie da quattro puntate ci sono riusciti con The Leftovers voglio dire vuoi che non riuscirci con questa pensavo dicessi ci sono riusciti con Sense8 e lì avevi detto però almeno in quell'occasione i fan sono riusciti a ottenere qualcosa forse siamo noi che ci dobbiamo muovere e cercare di rompere gli coglioni per avere almeno un film conclusivo avevo detto a una persona di recensiere quest'estate che lavora nei capoccia di Discovery Italia lei aveva detto di passarmi i contatti che io voglio andare a rompere i maroni alla direzione per avere un finale anche su un pezzettino di carta che mi dicono doveva finire così in realtà giusto per saperlo essere a posto con me stesso però Westworld quest'anno Federico recupera la quarta stagione e si contento come noi io non recupero serie che non hanno un finale mi spiace sono ancora 2x09 tra l'altro tu hai un'idea di quanto saresti contento invece di vedere quella puntata finale lì guarda avrei potuto mettere Westworld come best recupero di quest'anno ma invece è andata male tu Fabri invece cos'hai come 2 voti bonus che non ci staranno dentro la top 3 in realtà alla fine sono 3 perché vedo che me ne sono segnati di più ma facciamo che i due titolari metterei Depentavrate che in pochi si sono cagati la nuova creatura di Mike Myers per chi non conoscesse il nome basta dire Austin Powers e direi che siamo a posto tutti quanti sanno chi è immediatamente è una mini serie si tratta di una comedy di 6 puntate quindi un recupero agile da fare in un pomeriggio sarà una serie che piacerà soprattutto ai fan di Myers a me personalmente è piaciuta molto si concentra sul mondo delle cospirazioni un po' come quel cartone animato Inside Job di cui parlavo nell'altra puntata e devo dire che nel suo piccolo lo fa bene perché c'è quel tipo di umorismo nonsense che secondo me è geniale non ci sono grosse pretese sono mezz'ora di risate per 6 come nuova proposta di quest'anno soprattutto dal punto di vista delle commedie secondo me è uno dei prodotti più meritevoli dall'altra parte mettiamo sempre un altro prodotto presente su Netflix voglio consigliare The Cuphead Show che è semplicemente una serie di animazione basata sull'omonimo videogioco trial and error dove in pratica devi impararti i pattern dei nemici e un po' tutto il livello come scorrerà per poterlo effettivamente superare perché è molto molto difficile ed è fatto con quello stile di animazione tipico dei cartoni della Disney di inizio secolo scorso quindi quel tipo di animazione che se la guardi adesso di notte ti fa lo stesso effetto di un film horror con queste animazioni oblunghe con questi movimenti tutti particolari un po' scattosi hanno utilizzato questa componente e in più hanno ambientato tutto in una sorta di reame demoniaco per appunto amplificare questa sensazione questo scontro tra l'animazione classica per bambini e il satanismo subliminale che da sempre è stato connesso alle opere della Disney quindi anche questa la consiglio poi sono episodi da 10 minuti ciascuno 12 massimo quindi una roba che si recupera in un lampo ed è molto simpatico ultimo accenno lo dico così giusto per secondo me dovremmo inserire Andor in qualche modo in queste classifiche perché è una serie effettivamente piacevole e finora senza dubbio la migliore all'interno dell'universo di Star Wars tra le serie televisive The Mandalorian è bello perché ti sventrano davanti gli eroi della tua infanzia e tu bravo nerd coglione vai nel tuo angolino a segarti nel buio e sei contento voilà perché ti hanno dato la spada laser ti hanno dato il baby Yoda poi vabbè nulla da dire un telefilm sicuramente piacevole da vedere ma Andor è un altro livello c'è una storia c'è sentimento non ci sono tutte queste minchiate giusto perché devi attirare a te i fan storici e prendere nuove leve uno show secondo me molto più genuino sembrerebbe fatto effettivamente con lo scopo di fare un bello show Andor devo ancora finirlo onestamente però c'è Diego Luna che ha questa monoespressività che un po' mi infastigisce devo ammettere un protagonista un po' più espressivo magari non mi sarebbe dispiaciuto no sono d'accordo se avessi dovuto dirti l'unica cosa ma neanche negativa però che poteva essere migliorata magari sì il protagonista non è tanto la questione dell'inespressivo è che non ha quel carisma scenico che uno magari si aspetterebbe da un eroe di un film o una serie tv o quel che è di Star Wars noi abbiamo detto le nostre serie bonus invece le tue Federico a cui io sono molto interessato adesso prendo nota dimmi pure immagino interessatissimo una è quella che ho già citato più volte che è Winning Time The Rise of Lakers Dynasty che merita e l'altra invece è una miniserie appena andata in onda su quella che ho scoperto essere l'ennesima piattaforma streaming di cui non è la conoscenza che è ITVX ma è bella quindi Litvinenko Litvinenko molto bella pubblicizzata semplicemente perché c'era la presenza di David Tennant che fa Alexander Litvinenko ma in realtà lui c'è solo una puntata la prima e il resto è la conseguenza di tutta la storia che ruota intorno all'avvelenamento di Alexander Litvinenko avvenuto nel 2006 in pieno centro Londra e Litvinenko è un ex membro del KGB quindi magari qualcuno se lo ricorderà questa famigerata foto di Litvinenko in ospedale completamente glabro perché è avvelenato da quanto pare un'altra spia russa gli avevano avvelenato il tè sì esatto spoiler c'era David Tennant come main actor ma c'era anche Neil Muskell è il primo agente che effettivamente crede alla storia della moglie di Litvinenko e lui era il killer spietato di Utopia quello che ripeteva costantemente where is Jessica Hyde quando ho visto lui è stato oh cazzo questa qua potrebbe essere una serie come si deve visto che stanno tirando fuori dei pezzi da 90 così dal cilindro sì sono solamente quattro puntate da 45 minuti molto rapide tra l'altro un back crescendo fino alla terza e poi la quarta chiude il cerchio ma devo dire che praticamente ogni puntata ha una specie di nuovo protagonista ma non è che pesi questo scambio questo cambio di focus quindi veramente fatta bene e onestamente devo dire che ITV in genere ci becca sempre o quasi sempre fa sempre bei prodotti belle miniserie l'avevo scoperta ai tempi con Broadchurch prima che andasse a puttane con la terza stagione però bella passiamo la merda parlato di merda Aldo ha sensazione mi sembra ragazzi che abbiamo nel reparto della merda molte cose in comune visto che siamo dei grandi spalatori annuali no noi siamo grandi degustatori di merda ah siamo dei gustatori si siamo dei merdelier siamo è una buona sta merda e condividiamo fra di noi siamo dei merdelier questa definizione mi piace molto devo essere sincero quindi vi cito subito le mie prime tre dopo andiamo a vedere le vostre The Book of Boba Fett questa merda sta di Tatooine The Midnight Club e The Patient Boba Fett penso che sia inarrivabile come merda Midnight Club si è conquistato facilmente la sua posizione The Patient più che altro perché ha avuto un declino incredibile e mi continuano a far ridere i commenti sotto i post che leggo su Facebook di gente oh ma mi piace questa serie ah le puntate molto brevi che interessante si arriva le ultime cinque della seconda parte brutta merda dopo vediamo cosa ne pensi anche noi avevamo fatto questi commenti comunque lo sai però che è bello giudicare gli altri quindi ecco queste sono le mie tre non so se volete dirmi che avete qualcosa in comune o se vi ritrovate o se magari invece quello che io reputo merda magari per te Federico è bellissimo non lo so tipo The Book of Boba Fett secondo te è stata una bellissima serie su The Book of Boba Fett concordo facilmente The Midnight Club non l'ho visto però mi fido ti fidi The Patient l'ho visto poteva essere meglio o più corto ecco The Midnight Club sono dispiaciuto perché quando ho letto il nome di Mike Flanagan sono andato sicuro per i progetti che ha avuto con Netflix The Midnight Club il problema è che sono tutti i ragazzini a me i teen drama fanno veramente cagare bocciato subito in partenza e poi ha fatto veramente schifo non c'era niente di horror non c'era niente di quanto meno interessante The Buck totale questa e The Patient come hai detto te quattro puntate interessanti che potevi dire ah sembra carino chissà dove va a parare dopo ti piazzano puntate da 50 minuti la storia che si rallenta flashback non c'entrano una mazza un finale assolutamente senza senso e personaggi che decidono a caso di fare robe finale senza senso no finale ha un senso ha un senso ma non connesso con la prima parte della stagione che poi ci sta se uno magari prende una direzione diversa sul finale ma deve essere una direzione interessante già mi avevate detto eh vedrai che alla fine peggiora e grazie a te ci sono arrivato con le aspettative talmente basse che ho detto ah vabbè dai poteva andare addirittura peggio però effettivamente c'è stato un cambio di fronte abbastanza repentino è effettivamente basato più sull'introspezione senso di colpa che sul serial killer c'è la questione dell'uomo dell'assassino che è la parte che di solito interessa quando uno guarda questa tipologia di telefilm abbandonata completamente per altre strade The Book of Boba Fett ragazzi credo che sia la serie dove siamo stati più d'accordo in assoluto da quando abbiamo iniziato con questo podcast e tra l'altro è stata la serie con cui abbiamo iniziato questo podcast perché se vai a vedere The Book of Boba Fett è il primo nome che campeggia in spin off queste sono le vostre top 3 peggiori se devo partire dal basso quindi dalla migliore tra le peggiori probabilmente scelgo The Lord of the Rings nel senso che The Lord of the Rings ha tanti difetti come abbiamo già detto in passato anche con ospiti speciali ma non puoi andare a dire nel complesso fa schifo da buttare nel cestino perché ci sono tanti punti di vista quello estetico soprattutto che non può essere considerata una delle serie peggiori ecco magari le serie facessero tutte schifo come The Lord of the Rings ci sono cose ben peggiori di questa ripetiamo Signore degli Anelli serie tv più costosa di sempre della storia il risultato è pessimo Il Signore degli Anelli si porta dietro più che altro un'ondata di persone che conoscendo il franchise non si dovrà mai completamente impegnare per un risultato ottimale perché in ogni caso i numeri li collizionerai parti già da un bacino di utenza che ti consente di mostrare l'assismo nella costruzione della tua opera quindi le aspettative sì però dall'altra parte uno si ricorda anche di come funzionano i prodotti adesso e di come basti veramente poco per tirar su i soldi in questo caso a maggior ragione visto che hai Jeff Bezos che caga soldi per ricostruirti le atmosfere originali del Signore degli Anelli però ecco se dobbiamo parlare di serie di merda fermo restando che The Book of Boba Fett probabilmente rimane uno dei punti più bassi di quest'anno abbiamo anche Shulk che abbiamo già insultato in tutte le salse e anche già nella precedente puntata abbiamo anche The Peripheral in tutte le occasioni Aldo non mi ha mai detto guardati The Peripheral ha parlato di The Peripheral no no mai The Peripheral l'ho scelto perché ho visto i trailer e ho detto vabbè dai potrebbe quasi essere una serie carina però anche lì non è che avevo nessun tipo di aspettativa poi secondo me non ce ne dovremmo preoccupare per così tanto non credo che questa serie andrà avanti per molto perché non ha quel mordente in realtà mi sa che ne sentiremo ancora parlare perché ho visto una recente intervista alla vicepresidente degli Amazon Studios in realtà sono gente attiva e stanno già scrivendo la seconda stagione seppur manca l'ufficialità te l'avevo già detto anch'io questa cosa no ma questa intervista è venuta fuori l'altro giorno letteralmente no ho sicuro non è perché non mi fido di te anche ma l'ho scritto dieci giorni fa comunque fede che probabilmente c'era già una seconda stagione in atto però fa niente e ascolta pure le tue interviste tu se vuoi stanno dicendo quindi Shulka e The Peripheral ma e questo voglio sottolinearlo la serie peggiore in assoluto tra quelle di quest'anno incluse anche quelle che avete detto voi che ho visto anch'io è senza ombra di dubbio Resident Evil Resident Evil la serie perché c'è stato anche un film poco prima di cui abbiamo già parlato B-movie eccetera ma già meglio mentre la serie Netflix ragazzi è quanto di più aberrante la televisione contemporanea abbia creato ed è proprio l'emblema di quelle che sono le serie tv che interessano al pubblico adesso o quantomeno alle fasce di pubblico per cui la televisione sta scrivendo di recente ed è anche una conferma di quello che diceva Boris sui progetti proposti alle reti e sulle caratteristiche che devono avere perché Resident Evil hanno preso il nome e basta questo è quello che hanno preso di Resident Evil per portarlo sul piccolo schermo e anche i nomi dei personaggi poi non si sono curati del fatto che i personaggi fossero completamente diversi sia esteticamente che dal punto di vista della caratterizzazione da quelli che erano i personaggi originali di Resident Evil ma a parte quello anche tutto il resto è una merda di teen drama perché non è neanche un buon teen drama proprio una merda completa uno schifo che in tre secondi riesce a rovinare tutte le aspettative che uno poteva avere se ne aveva nei confronti di questa serie tv quindi per me Resident Evil rimane l'aborto seriale di questo 2022 e nessuno potrà farmi cambiare idea nessuno spodesta Resident Evil dal podio mi fermo qui tu Federico invece hai qualche merdone che hai pensato durante il 2022 di cui vorresti parlarci grazie beh in realtà ho un sacco di cose in condivisione con Fabri perché il Signore degli Anelli ce l'ho The Book of Boba Fett siamo allineati The Peripheral anche per me bel flop nella categoria bonus ne ho due una devo mettere che è Shulk perché mi aspettavo un po' di più o mi aspettavo diciamo una serie guardabile invece sono tante puntate buttate un po' alla cazzo di cane invece volevo citare una serie tv che magari non l'ho capita io perché parlando con altre persone l'ho trovata interessante e ricca di umorismo io l'ho trovata uno schifo che è la serie tv col nome più lungo della storia quella con Kristen Bell chiamata The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window una specie di parodia ma che non fa entra a vedere il fatto che sia una parodia di altri film dove c'è uno stalker la protagonista ha avuto dei traumi importanti quindi beve come una forse nata e si piglia un po' di pasticche sono rimasto abbastanza delusa nonostante puntate veloci eccetera non assolutamente poteva essere fatta meglio io come bonus mi sono giocato Killing Eve perché è stata veramente una stagione inutile doveva essere quella conclusiva ed è stata un declino puntata dopo puntata del finale il finale orribile e come bonus due invece mi sono giocato The Peripheral di cui abbiamo già detto condivido praticamente tutto quello che avete detto tranne l'astio eccessivo che tu dimostri verso Amazon a priori Federico e vi cito anche perché l'ho recuperato la settimana che sono stato a casa ammalato Space Force perché l'hai fatto? perché ce l'avevo lì segnato su Netflix ho detto vabbè dai io sono 20 minuti puntata 25 cosa vuoi che sia una merda incredibile io non so neanche perché abbiano mai prodotto una serie tv del genere perché l'abbiano rinnovata c'era Lisa Kudrow quella di Friends che compare tipo una puntata dopo si scopre che lei ha chiesto il divorzio non compare più un personaggio peggiore che sia mai stato scritto nella storia della tv veramente perdita di tempo assoluto però ce l'avevo lì volevo togliermi il sassolino l'unico quello che faceva John Ralph in Parks and Recreation l'unico sì sì che vabbè lui mi piace a prescindere perché è proprio un coglione però a parte quello secondo me Aldo ti si è proprio lanciato nell'impresa inutile per eccellenza ma sai che cosa di Space Force tipo questa seconda stagione è l'inconsistenza dei personaggi perché se tu togli Steve Carell John Ralph che non mi ricordo minimamente come si chiama il personaggio e non ho voglia di andare a cercarlo totti loro due e Malcovich gli altri sono inesistenti poi tra l'altro pensavano di essere stati furbi dicendo adesso li frego io pensano di cancellarci e allora cominciamo già a lanciare l'idea che vanno via tutti dal lavoro perché nelle ultime puntate cominciano a dire eh però io vado a lavorare da un'altra parte io vado a lavorare da di qui quindi sembrava che stavano già predisponendo tutto perché i personaggi se ne volevano andare dalla Space Force cosa che invece dopo non accade ma vabbè spoiler però se ve la guardate siete dei dementi come sono stato io in questa settimana a me era bastato vedere il pilot a suo tempo quindi mi ero fermato là questa settimana lì ho visto questo e Bombshell una bella merda anche quello comunque visto che ho citato film direi che prima di passare i film potremmo concludere con il bonus di questo 2022 visto che stiamo parlando di Recupery da una cosa che normalmente una persona fa durante l'anno di recuperare serie vecchie che dite ah finalmente ho una settimana per i cazzi miei non devo guardare niente recupero una serie vecchia cosa che a me capita ogni tanto quindi quando è che vuoi recuperare il Signore degli Anelli fammi capire fa cinque anni io il Signore degli Anelli non hai capito io non guarderò mai quella merda lì quindi fai come vuoi tu cosa cazzo recuperi già hai recuperato Space Force e ho dovuto recuperare anche perché qualcuno aveva fretta di fare una puntata che non la vedo io in questa lista fede come mai non era bellissima è bellissima ma ci sono altre di migliori si va bene però ci ho pensato di inserire House of the Dragon qua però perché non l'hai fatto? perché mi sono fatto la scaletta top 10 e House of the Dragon è nella top 10 ma non è nella top 5 si si vabbè comunque io durante il 2022 ho recuperato alcune serie vecchie chiaramente quindi quelle che mi sento di consigliare non a voi perché so che le avete già viste una è The League e l'altra è Seinfeld ecco queste sono le due serie che ho recuperato nel 2022 che sono state un piacevole recupero The League basato su Fanta Football americano è una serie comedy no sense al mille per mille veramente veramente piacevole recupero poche puntate scorre via senza problemi Seinfeld c'è veramente ancora meno da dire è una serie comedy con Jerry Seinfeld creata da Larry David premiata come la miglior comedy mai prodotta e serie mai esistita quindi recuperatela è ancora su Netflix se non sbaglio quindi è a vostra disposizione quante stagioni sono? 9 stagioni sono 20 puntate a stagione The League ho detto poche puntate ma potrei aver detto una merda The League sono 84 puntate sono 7 stagioni ed è andato in onda tra il 2009 e il 2015 mentre Seinfeld risale all'89 ed è terminato nel 98 così giusto per dare un po' di indicazioni temporali e se volete leggere una bellissima recensione su Seinfeld passate da recenserie dove troverete un bellissimo rip scritto e sottoscritto andate a leggerlo Fabrizio invece tu? io ho fatto un bel po' di recuperi di serie vecchie perché devo smaltire un po' sta lista promuoverei una comedy e un drama il drama che ho recuperato e che promuovo è Oz perché ve l'ho anche detto qualche puntata fa è una serie che è iniziata alla fine degli anni 90 e ancora adesso è attualissima su tutti gli argomenti che vengono trattati sia che si pare all'interno della prigione che Oz è la forma contratta di Oswald che è il nome di questo carcere di massima sicurezza al cui interno c'è questa Emerald City che è un nuovo progetto fatto da uno dei secondini diciamo uno di quelli che gestiscono le varie ale all'interno del carcere ed è basata su questo nuovo principio di dare più libertà ai detenuti per cercare di scatenare meno casini meno rivolte eccetera ovviamente succederà di tutto purtroppo le ultime due stagioni vi direi la quinta e la sesta hanno un notevole calo dal punto di vista della qualità a mio avviso ma le prime quattro stagioni tre e mezza facciamo fino a un determinato avvenimento sono allucinanti te le divori sono puntate lunghe ovviamente però le stagioni sono composte da otto episodi quindi non è questo recupero impossibile e secondo me è una di quelle serie che va recuperata anche solo per il valore storico che ha e tra l'altro ci puoi dire che il cast è un cast letteralmente della madonna a partire da Ernie Hudson che era il Winston di Ghostbusters o anche J.K. Simmons che è uno dei personaggi principali che compare dall'inizio fino alla fine della serie ed è il capo della fratellanza ariana nonché cattivo più cattivo e merdoso di sempre ma ci sono moltissime facce conosciute il narratore è il Michael di Lost nonché protagonista di From e ci sono anche altre facce conosciute specialmente in Lost come ad esempio l'attore che interpretava Mister Echo che in Oz interpreta il capo invece delle persone di colore mentre dall'altro lato andando nella comedy la serie che vi consiglio e questa non è una serie facile da reperire quindi non andremo nei particolari su come si possa reperire questa serie lasciamo tutto alla divina provvidenza e il nome è Gareth Marenghi's Dark Place è una serie british che parla appunto di questo Gareth Marenghi che è questo attore di questa serie tv anni 80 che parlava di mostri demoni eccetera ma all'interno di un ospedale che era appunto questo Dark Place ed è un capolavoro sono sei episodi e quando finisce sei lì che dici no ma perché non ne hanno fatte delle altre nel cast ci sono diversi nomi che avrete già visto uno è uno dei vampiri di What We Do In The Shadows Matt Berry che recita nel ruolo di questo sex symbol almeno da copione dovrebbe esserlo e troviamo anche un attore che Aldo soprattutto conoscerà si ricorderà per la sua presenza in The E.T. Crow già visto Richard Aoiade sarebbe il capo quello che ci mette i soldi che però è un coglione vabbè non voglio rivelare niente perché questa serie va scoperta e vista tutta ad un fiato stavo guardando è uscita nel 2004 è un prodotto senza tempo te la guardi ancora adesso potrebbero averla fatta ieri fantastico a quasi 20 anni di distanza complimenti invecchiata bene tu invece Federico hai delle serie che vorresti dirci che hai recuperato in questo 2022 ritornando sui tuoi passi scoprendo che avevi torto scoprendo che avevo dei pregiudizi importanti verso una persona che si sono rivelati tali comunque e ce ne ho ancora sì ho recuperato euforia come avevo già detto in un'altra puntata che consiglio caldamente a differenza di voi ho recuperato una serie che è ancora in corsa e sto guardando anche Arrested Development a tempo perso se posso dirne un'altra che ho recuperato ai tempi della pandemia mi ero fatto la maratona di The Office sì ho visto anch'io durante la pandemia quindi siamo tutti lì cambiamo tutto e ci buttiamo nel miglior film visto nel 2022 perché abbiamo guardato anche film cioè Aldo non fa altro delle ultime tre settimane a sta parte quindi tutti qua quelli dei Golden Globe cioè tutti qua segnati li ho recuperati tutti adesso devo soltanto scrivere le recensioni pian pianino arrivano anche quelle ok ma quindi il tuo miglior film visto nel 2022 fa parte dei candidati al Golden Globe o no? allora il mio miglior film che ho scelto è perché io l'ho visto a marzo da noi in Italia è uscito tardi è uscito nel 2022 quindi a ridosso nei giorni degli Oscar di quest'anno mentre invece è stato presentato a Cannes per la prima volta a luglio del 2021 quindi io lo inserisco in questa categoria e me ne sbatto il cazzo del fatto che sia uscito a luglio perché io l'ho visto a marzo di quest'anno e in Italia è uscito quest'anno il titolo inglese è The Worst Person in the World in italiano è La persona peggiore del mondo e in originale visto che è un film norvegese il titolo è Verdens Verste Meneske bello però il tuo era un chiaro ascento norvegese è un film norvegese che chiude questa trilogia del regista dopo Oslo 31 Agosto e Reprise sono due film uno del 2006 e uno del 2011 chiude questa trilogia ed è un film che è stato candidato agli Oscar di quest'anno nella categoria miglior film internazionale dove chiaramente non ha vinto perché ha vinto il già citato perché ne abbiamo già parlato Drive My Car di Yamaguchi però è un film bellissimo un film bellissimo in cui vengono raccontate e presentate con molto tatto tutti i grandi dubbi esistenziali di una persona che arriva verso i 30 anni quindi trovare lavoro trovare casa avere una famiglia dei figli presentandoli come problemi che bisogna accettare e rendersi conto che è impossibile essere a posto su tutto si può essere la persona peggiore del mondo accettandone anche soltanto una parte di questi quindi se io non riesco a mettere su famiglia perché non è una mia priorità l'imposizione sociale non mi deve opprimere così tanto da obbligarmi a farlo quindi è fatto molto bene questo film ve lo consiglio caldamente come avevo fatto all'epoca e per me è il film dell'anno perché odio i bambini perché odio i bambini e quando è venuto fuori quella cosa hai detto ah finalmente anche loro lo dicono e non vedo perché io non posso dirlo vorrei citare come il miglior film che ho visto quest'anno nonostante vi abbia già esposto precedentemente il mio amore per l'ultimo film di Batman e per il Batman di Pattison in toto citerei invece The Northman che magari potrà non essere un film adatto a tutti quanti perché oggettivamente non lo è The Northman che come già preannuncia il titolo si concentra sulle avventure degli dei nordici che un po' tutti ormai amano è uno di quegli argomenti che è finito sulla cresta dell'onda perché è sempre figo parlare degli dei norreni direttore, produttore e creatore Robert Eggers che in molti probabilmente conosceranno per il film The Lighthouse che immediatamente esce fuori quando si parla di Eggers ma io reputo superiore questo The Northman a The Lighthouse nonostante abbia recuperato anche quello posso interromperti con una domanda come sono fissato su questa cosa delle traduzioni ma quindi secondo te questa persona si chiama Roberto Uovatore ma Fabrizio allora Fabrizio tu non devi più farti interrompere Federico smettere di dargli la soprattutto se mi dice sei stronzate ho detto vabbè mi vorrà dire qualcosa di utile ai fini di questo discorso vabbè comunque la mia risposta alla tua domanda Fede è no in questo film dove innanzitutto c'è un voler restare fedeli più possibile alle lingue alle tradizioni ai luoghi insomma si cerca di optare per un realismo totale nonostante sia molto violento ed estremo in molte occasioni ma a parer mio a maggior ragione se lo si è visto al cinema questo film è uno di quelli che ti intrattiene maggiormente dal primo all'ultimo minuto almeno tra quelli che ho visto quest'anno di quest'anno quindi io voto The Northman ma con menzione onorevole a The Batman quindi resti tu soltanto Fede qual è la tua scelta per questo 2022 la mia scelta è un titolo che ho già nominato in altre puntate che è Everything Everywhere All at Once tra l'altro candidato a non uno non due non tre ma ben sei premi al Golden Globe quindi adesso visto che hanno candidato qualcosa che piace a te dici che hanno ancora valore se mi avessi lasciato finire la frase te lo dico che adesso lasciano il tempo che trovano perché Golden Globe sono Golden Globe ecco grazie scusa scusa però se c'è un dio viene candidato anche agli Oscar quindi ci sentiamo a febbraio per gli Oscar Everything Everywhere All at Once uscito a marzo di quest'anno praticamente ovunque nel mondo tranne in Italia dove ci siamo presi la bellezza di sette mesi e l'abbiamo mandato al cinema a ottobre con scarsissima pubblicità in realtà è un capolavoro l'ho scoperto casualmente mentre ero in volo ma non ti l'hai risegnato apposta da vederlo durante il volo? no ero là che stavo cercando nella libreria che cosa c'era nel catalogo ho trovato questa cosa qua ho visto il trailer ho detto ah però interessante tanto sono due ore e venti me lo guardo tutto comunque è un film prodotto dai fratelli russo e diretto e scritto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert che si firmano come The Daniels tra l'altro guardando anche quello che hanno fatto in precedenza ovvero pochissime cose mi sono sognato che devo guardare Swiss Army Man uscito nel 2016 con Paul Dano e con Daniel Radcliffe tra l'altro è una storia molto molto surreale fatta di multiversi di questa donna che praticamente è la predestinata a salvare tutti i multiversi e la patronista è Michelle Yeo o Yeo o Yeo ma che cazzo fa se è scemo dopo come fa la gente a prenderti sul serio scusami un attimo io ho cercato di dare la pronuncia migliore con le capacità che mi sono state date questa è la pronuncia migliore? sì caldamente consigliato toccante comico ottima CGI ottime scene alla Matrix se vogliamo definirle così è veramente fin dell'anno per me no no ma infatti ho in mente di recuperarlo appena riesco settimana prossima a finire tutti quelli di cui manca la recensione sul sito e mi segno di recuperare anche questa quindi prima settimana di gennaio sono lì bravo e con questo buon proposito di Aldo per il 2023 chiudiamo qui la puntata dei Highlights e Lowlights del 2022 o anche chiamati Best and Worst perché migliore e peggiore era troppo italiano esatto non capisco perché non utilizziamo più le parole italiane che ce le abbiamo e utilizziamo solo parole inglesi per fare i figli usiamo le nostre parole ce le abbiamo sono più belle più bella la nostra lingua di quello schifo di merda di inglese e con questo un caloroso augurio di buon anno se volete fare un bel gioco con questo podcast e riascoltarvelo potete farlo a capodanno e bere con gli amici come si fa se hai il gioco quando guardi il presidente Mattarella che fa l'annuncio di fine anno e ogni volta che io e Aldo ci insultiamo potete bere la goccia quindi divertitevi buon anno da Padova quest'oggi da Edimburgo e dalla provincia di Brescia chissà se ci sarà ancora nel 2023 chi lo sa buon anno ciao significa che gli autori possono sbattersi nel cazzo possono essere dei cazzo di pigri di merda e non fare una minchia perché tanto alla fine lo guarderà qualcuno a maggior ragione hai detto due volte cazzo minchia e merda in due frasi praticamente e che problema c'è non siamo mai stati un podcast per religiosi a maggiori a maggiori che 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 You're being sarcastic, but I think it does actually get funnier every time.